Benvenuti in questa lezione dedicata al libro di Nerina Poltronieri, Solfeggi Parlati e Cantati, primo corso. Vi spiegherò l'esercizio numero 3 a pagina 11. Ricordo sempre che questi esercizi sono molto importanti perché preparano lo studente alla lettura delle note in doppia chiave, quindi sia in chiave di violino che in chiave di basso. In questo esercizio le note procedono sia per grado congiunto che per salti e inoltre allarga un pochino di più l'utilizzo delle note fuori del pentagramma con i tagli addizionali. Ora leggeremo insieme l'esercizio e differentemente dal numero 1 e 2 di pagina 10 e 11 questo non lo divideremo in parti perché è soltanto di tre righi. Come sempre per leggere l'esercizio la prima volta vi ricordo di utilizzare il metronomo, vi consiglio di iniziare ad una velocità non eccessiva e come prima lettura vi propongo velocità 72, una nota, un battito. Ovviamente se vi sembra troppo veloce potete anche partire da una velocità inferiore a 72 e man mano che vi sentirete più sicuri allora aumenterete la velocità fino a raggiungere la vostra massima possibile. Se avete avuto modo di confrontare questa lezione anche con le lezioni precedenti, quindi quelle relative all'esercizio numero 1 e numero 2, avrete probabilmente notato che vi propongo velocità iniziali sempre diverse per due motivi. Il primo è per non legarvi ad una sola velocità iniziale e il secondo anche per così dare un input a voi di poter prendere anche volendo iniziativa a scegliere una velocità ogni volta anche differente, non occorre sempre la stessa. Bene, lo leggeremo una volta per intero essendo composto soltanto da tre righi. Do, mi, sol, si, re, fa, la, si, la, sol, mi, do, la, fa, re, do, si, si, sol, mi, do, la, fa, Mi, Re, Mi, 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 La, Si, La, Sol, Fa, Re, Si, Fa, La, Si, La, 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 Sol, Fa, Mi, Re, Mi, Re, 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 Sol, La, Si, La, Sol, Mi, Re, Mi, Re, 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 Sol, La, Si, La, Sol, Mi, Re, Mi, Re, 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 Sol, La, Si, La, Sol, Mi, Re, 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 Sol, La, Si, La, Sol, Mi, Re, 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 Re mi, do, do. Bene, abbiamo svolto l'intero esercizio e vi ricordo sempre che se aumenterete notevolmente la velocità di lettura, allora volendo potrete anche stabilire una velocità di metronomo rispetto alla massima raggiunta una nota, un battito, allora la potrete dimezzare e dire due note all'interno di ogni battito. E se vorrete aumentare ulteriormente la velocità, volendo potrete utilizzare il metronomo non soltanto un battito una nota o un battito due note, ma anche un battito tre note o anche un battito quattro note. Siamo giunti al termine di questa lezione, fateci sapere se siete riusciti a svolgere l'esercizio e se avete avuto delle difficoltà, in caso quali, e a quale massima velocità siete riusciti a svolgerlo. Augurandovi il buon proseguimento di studio, vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al nostro canale YouTube e di attivare la campanella, di lasciarci un like e condividere. Alla prossima lezione!